Elezioni comunali nel comune di Rapallo, una popolazione residente di poco meno di 30.000 abitanti. Candidato sindaco Marco Casella, Udc Libertas. Una candidatura, Casella, che lei ha resa nota alla fine, quando i giochi sembravano fatti. Perché questa decisione? L'ho resa nota alla fine perché la campagna politica di Rapallo era un pochettino anomala. Sempre gli stessi che saltavano da una parte all'altra e quindi problematica, problematica per cambiare Rapallo. In realtà mi dicono che anch'io ho fatto il salto, ma io sono saltato da un ipotetico carro vincente a una scommessa. La scommessa di portare comunque delle persone che sono deluse perché Rapallo non è una città turistica. Rapallo vota sempre meno persone e quindi bisogna cambiare Rapallo. Arriviamo proprio all'idea del voto e quindi alla lista. Lei che tipo di caratteristiche ha individuato nelle persone che ha messo in lista con sé? Allora, una gran parte di persone sono di valore perché sono persone che sanno dove vanno a finire, nel senso in caso di Vittoria. Alcune le abbiamo prese per arrivare ad avere 14 candidati minimi, ma la maggior parte di persone interessanti sono quelle che mettiamo nei posti che prendiamo al di fuori della politica perché noi partendo tardi non potevamo fare altri miei. Un programma, il suo, piuttosto vasto, ma le chiedo quali sono i punti qualificanti del suo programma, vale a dire due cose che puoi riassumermi? Le due cose sono tre. Dal decoro urbano che abbiamo veramente bisogno perché se noi guardiamo solo davanti all'uomo abbiamo un interruttore che non lo cambiano da anni e poi la prima cosa che dobbiamo fare sono i parcheggi, la viabilità, i marciapiedi che sono per una città comunque turistica abbiamo bisogno di queste cose. Che caratteristiche deve avere una persona per fare il sindaco a Rapallo? Perché sembra facile tracciare una figura, ma quali sono secondo lei le caratteristiche principali? Su Rapallo, secondo me, la persona che quello che dice infatti siamo da soli cerca di realizzare. Noi non abbiamo vincoli con nessuno, quello che decidiamo cerchiamo di portarlo in fondo. Avere troppe qualifioni dentro c'è la problematica che poi incominciamo a limare, a limare, a limare e alla fine, come negli ultimi anni, non succede mai niente. Le chiedo, secondo lei, che cosa potrebbe diventare Rapallo e nel momento in cui lei vincesse questa competizione, che tipo di immagine vorrebbe dare a questa città? Io vorrei riportare quello che era Rapallo. È ovvio che in cinque anni non si ce la fa, perché i lavori su Rapallo sono veramente, veramente importanti da fare. Però comunque riprendere dalla discesa e rincominciare la salita e dare a Rapallo praticamente l'importanza che ha Rapallo sulla voce di tutti. Quando noi lo sentiamo in giro per l'Italia, a sei di Rapallo, sì, vieni da vedere e poi ne parliamo. Un voto lei lo chiede ovviamente per governare. Che valore dà a questo voto? Il valore lo do su un tipo di cambiamento, soprattutto cercare di riavvicinare la cittadinanza alla politica, perché la politica oggi si è allontanata molto dalla cittadinanza. Lo vediamo in questi giorni vicina, ma solo in campagna elettorale e finita la campagna elettorale si tornerà a fare quello che si è sempre fatto negli ultimi anni. I promessi rimangono promesse e si fa quello che... e fanno quello che possono. Sembra un timore il suo. È una certezza. Noi con Ricci sindaco è la lista che vede come candidata Elisabetta Ricci. È una lista civica nel suo insieme? La lista che mi appoggia è la lista Noi per Ricci sindaco. È una lista civica formata da 16 candidati, con cui alcuni abbiamo fatto un percorso comune insieme amministrativo, altri invece, quindi circa la metà, sono persone nuove, persone di ogni ambito cittadino che hanno voluto dare il loro contributo. Poi la mia coalizione è formata dalla lista di Fratelli d'Italia e dalla lista di Forza Italia. All'inizio sembrava un parto un po' difficile questa sua candidatura? Ma all'inizio è stato un parto un po' difficile, soprattutto perché io mi sono candidata, insieme agli amici che mi sostengono, con la lista civica Noi per Ricci sindaco. Successivamente poi abbiamo accolto la richiesta degli amici di Fratelli d'Italia e di Forza Italia di far parte del nostro gruppo. Hanno dato la loro adesione a sostenermi e quindi abbiamo formato la nostra coalizione. Dove c'è anche con Bagnasco? La domanda è, è una candidatura che può avere un aspetto di continuità oppure no? Ma io credo che la mia candidatura sia continuità e discontinuità, in quanto continuità perché appartengo all'amministrazione del sindaco Bagnasco, quindi è un'amministrazione uscente e all'interno di questa coalizione ci sono candidati che si ripresentano, che fanno parte dell'amministrazione stessa. La discontinuità sta nel fatto che il sindaco uscente è un uomo e io sono una donna già in questa discontinuità e poi credo anche nella persona, cioè siamo due persone diverse, il sindaco ha fatto tanto per Rapallo e io credo di dare un cambiamento con le mie idee, ma continuando nelle migliorie del cambiamento che c'è già stato. E quindi nell'ambito di questo cambiamento di cui lei parla, ci sono un paio di punti qualificanti nel suo programma che la contraddistinguono? Il mio programma è quello di vedere Rapallo a misura di donna. Io vengo dal mondo della scuola, mi sono sempre occupata di sociale, delle famiglie, quindi intendo potenziare tutti i servizi che fanno capo proprio alle donne che si occupano della casa, dei figli, della famiglia e anche degli anziani. Un altro aspetto qualificante del nostro programma è quello di cercare di rendere Rapallo vivibile, accogliente, quindi intervenendo sui parcheggi, sulla vivibilità, ma anche incrementando la cultura, perché credo che la cultura sia proprio la ricchezza dell'anima e soprattutto preservando anche l'identità di questa città che ha tanto potenzialità ma che bisogna tirare fuori. Ci sono tante potenzialità ma anche tanti candidati, mentre in alcune realtà, sempre del Tiguglio, vediamo che si è fatto molta fatica a fare addirittura una lista in competizione con un sindaco e per cui il quorum giocherà la sua parte. Come mai tanti candidati a Rapallo, secondo lei? Rapallo è sempre stata una città in cui le persone hanno partecipato alla vita politica, quindi credo che sia molto positivo il fatto che tante persone si mettono in gioco per poi cercare di essere eletti e andare a amministrare il bene pubblico. Sono molto contenta perché in questa tornata elettorale ci sono tanti volti nuovi ma tanti volti femminili. Credo che la componente femminile possa portare davvero una ventata di novità, di concretezza e di un nuovo cambiamento all'interno della vita comunale. Le accadrà sicuramente, camminando per Rapallo, di pensarla magari in prospettiva fra cinque anni del suo governo nel caso in cui lei venisse eletta. Come la vede? Io spero che se sarò eletta fra cinque anni potrò vedere la mia Rapallo, che è la città dove sono nata e dove vivo con la mia famiglia, che sia diventata decorosa, abitabile per i suoi cittadini, accogliente per i turisti che vengono a trascorrere le loro vacanze, che ci siano più parcheggi, che ci siano eventi turistici che facciano venire sempre di più i giovani che spesso vanno in altre cittadine e che siano i miei cittadini soprattutto contenti per questi anni della mia amministrazione. Per chiudere la citata lei, quindi le vengo dietro la famiglia. Per una donna sappiamo che l'impegno si raddoppia. Come è stata vissuta la sua candidatura in famiglia? La mia famiglia è abituata alle candidature politiche in quanto abbiamo sempre respirato la vita amministrativa con mio padre che ha fatto 40 anni di politica. Però ho imparato da lui a tenere un po' separati i due ruoli, nel senso che quando sono a casa la politica sta un po' fuori dalla porta. Devo dire che la mia famiglia, mia madre, mia sorella, mio marito, ma anche lo stesso mio figlio sono rimasti all'inizio un pochettino spiazzati della mia candidatura. Però adesso sono molto contenti, mi supportano e da loro davvero una grossa mano nella gestione familiare. Scegliamo Rapallo è la lista civica che candida Francesco Angiolani a sindaco della città di Rapallo con il sostegno del Partito Democratico. Una decisione è quella di candidarsi a sindaco originata da che cosa? Da un percorso dei due rappresentanti dell'opposizione in questi cinque anni, del Partito Democratico Mauro Mele e del Movimento 5 Stelle Isabella De Benedetti. Dopo questo difficile percorso hanno deciso di unire le forze e di presentare una terza persona, un terzo come sono io, non iscritto a nessuno dei due partiti e quindi intraprendere questo percorso insieme e inserire nella lista civica Scegliamo Rapallo anche candidati del Movimento 5 Stelle, non solo del Movimento 5 Stelle ma anche di Alleanza Verdi Sinistra e di linea condivisa. Ecco quindi una sintesi che dà origine a che tipo di programma? Me ne puoi illustrare un paio di punti qualificanti? Sì sì, il programma è sicuramente rivolto verso il territorio e verso la persona, quindi sicuramente uno dei punti principali è l'adesione al parco di Portofino. Fortunatamente l'ultima sentenza del Tar riporta i confini a 11 comuni e questa è stata una grossa battaglia nostra fin dall'inizio anche di Isabella De Benedetti e quindi sicuramente questo è un percorso che darà vita a tutta una serie di importanti sviluppi alla città, la manutenzione dei vari sentieri, più lavoro per i rapallesi e una politica comprensoriale che possa dare risalto a Rapallo e agli altri comuni del parco anche a livello nazionale e internazionale. Sicuramente in città vediamo strade dissestate, marciapiedi impercorribili, quindi anche un piano di manutenzione generale della città, sicuramente un'altra cosa che manca e su cui noi puntiamo molto è la cultura, in questo momento ci sono tre punti culturali della città chiusi per lavori contemporaneamente che sono il Teatro delle Clarisse, la Biblioteca Internazionale e il Castello. Noi vogliamo una volta ultimati i lavori collaborare con le varie associazioni culturali di Rapallo e valorizzare questi tre punti. Teniamo invece alle persone, una composizione quella della sua lista che ha tenuto presenti quali caratteristiche? Ma sicuramente tutte le caratteristiche che ha una lista politica, quindi con gli esponenti del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle ma anche di persone che hanno una loro storia anche professionale, quindi abbiamo cercato di ricoprire un po' tutti i mestieri per poter essere pronti a soddisfare tutti i bisogni della cittadinanza. Mi fa un'immagine come lei potrebbe vedere Rapallo in prospettiva da qui ai prossimi cinque anni qualora voi foste votati per governare questa città? Ma noi ci auspichiamo prima di tutto, come ho detto prima, anche grazie all'adesione al Parco Nazionale, una visione di Rapallo a livello internazionale. Vorrei che a Rapallo ci fossero dei festival culturali come ci sono in città vicine come Camogli, come Chiavari. Vorrei una città dove i giovani siano valorizzati e dove gli anziani si sentano parte attiva ancora della società. Esiste un problema sociale per chiudere? Certo, il problema sociale esiste e come? Ed è nostra intenzione proprio creare un circolo virtuoso con le persone, con le associazioni, con le scuole affinché ognuno prenda responsabilità di quello che può fare per migliorare tutti insieme la città. Lei pensa di avere le caratteristiche per fare il sindaco? Sicuramente sì perché se no non mi sarei candidato. Libera Rapallo e Unione Popolare sono le liste che presentano Andrea Caranante, candidato a sindaco nel comune di Rapallo. Io sono un artigiano che vive e lavora in questa città da sempre, conosco bene proprio per questo motivo i problemi di questa città e ho deciso di ricandidarmi visto la situazione di Rapallo che è arrivata al punto più basso della sua storia. Cosa intende per punto più basso? Ma il punto più basso, cioè a Rapallo non è più un desiderio di cambiamento, è proprio una necessità perché Rapallo è stata mal amministrata e poi ci sono state tutte queste giravolte di questi politici dell'amministrazione che sono passati da una parte all'altra che hanno comunque fatto pagare alla città un conto molto caro. Una lista civica è un partito, la sua composizione? Sì, Unione Popolare è un'associazione e la lista civica Libera Rapallo lavora da molto tempo in città su vari argomenti. Ci siamo trovati in diverse battaglie in questa città per il diritto per le spiagge pubbliche, per il no tunnel, diciamo no anche al grande supermercato che deve nascere al posto del ma c'era e poi abbiamo un programma molto propositivo in tal senso. Il programma, glielo chiedo, un paio di punti qualificanti? Noi a differenza di altri abbiamo un programma realizzabile, realizzabile per l'80% anche nel primo anno di amministrazione e i punti qualificabili, come le dicevo, non ci spendiamo in grandi slogan elettorale di infrastrutture ma pensiamo che a Rapallo sia necessario un piano straordinario di manutenzione ordinaria proprio perché a Rapallo è arrivato al punto più basso della sua storia, sia come riqualificazione urbana, rigenerazione dei quartieri, decoro urbano, arredo urbano eccetera. Una sua battaglia è quella sul tunnel? La battaglia sul tunnel è una battaglia molto importante, è una battaglia che riguarda tutta la città e non solo le zone che saranno colpite da questo scempio di autostrade ma sarà una questione che riguarderà tutto il programma perché ne risentirà la viabilità, ne risentirà il commercio, ne risentirà il turismo. Che tipo di criterio ha utilizzato nel comporre la sua lista? La mia lista è composta da persone quasi tutte esterne alla politica però molto impegnate all'interno dei comitati, molto impegnate all'interno del volontariato, all'interno delle parrocchie. Noi siamo una lista che sa molto lavorare sul territorio e conosce bene il territorio. Abbiamo dal professore universitario alla casalinga e di tutti l'età. Un punto del programma che difficilmente ho riscontrato nell'intervista ai candidati è quello sul sociale. Rapallo spende molto in questo momento per la copertura del sociale. Ritenete che quindi sia soddisfacente la situazione? Ma l'investimento che farà Pallo, capitolo di bilancio che farà Pallo sul sociale è una cifra molto importante, parliamo di più di 7 milioni di euro, è una cifra che va difesa, però questa cifra non può essere solo un capitolo di bilancio ma deve essere una politica, quella che si intende sul sociale. Quindi organizzazione, servizi alle famiglie, servizi per le persone anziane, per le persone più deboli e sole in questa città. Cinque candidati sindaco, che immagine ha lei di un sindaco di Rapallo? Che caratteristiche deve avere? Ma secondo me è un momento storico che il sindaco di Rapallo deve davvero lavorare per resettare e ripartire da zero, quindi c'è bisogno di un sindaco che questa città la conosca davvero. Le chiedo, provi a vedere o a far vedere a noi in prospettiva qualora lei fosse eletto un Rapallo in prospettiva fra cinque anni, come dovrebbe essere? Ma io credo che la prospettiva di una città, innanzitutto bisogna farsi una domanda, a che città vogliamo domani, qual è la città del futuro e la risposta è il progetto, la progettualità che è sempre mancata a questa amministrazione, quindi noi pensiamo a un Rapallo per il sociale, a un Rapallo che difenda il proprio introterra, le frazioni e che difenda soprattutto il mare, che ripristina alcune zone che sono ancora oggi abbandonate come la passeggiata di Prelo, San Michele di Pagana. Questo è quello che lei si augura e augura Rapallo, cos'è che non augura invece Rapallo? Io non auguro il tunnel per la Fontana Buona perché potrebbe portare Rapallo veramente al collasso.